Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la YZR Yamaha M1 in scala 1 a 4, edizione De Agostini, uscita numero 16. Andiamo subito a dare un'occhiata a quello che abbiamo trovato in questo fascicolo e poi procediamo al montaggio. Se qualcuno di voi avesse il piacere di dare lettura ai testi e visione anche alle immagini, può farlo guardando il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Ci tengo anche a salutare tutti i miei iscritti e a ringraziarli, così come anche le persone che mi visualizzano e non sono iscritte e a loro ci terrei a dire questo. Ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Saluto anche Diego, un mio iscritto, che mi ha commissionato il montaggio di questa Yamaha. Ciao Diego, se ci fosse infine qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Ho detto tutto. Abbiate pazienza, ma non so mettere scritte, icone, quindi devo dire tutto a voce. Allora, qui troviamo il supporto del cruscotto. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Eccolo qui. Anche questo sembra carbonio. La finitura è veramente carina. Tutto plastica. Ci servirà anche il cruscotto che abbiamo montato nell'uscita precedente, la numero 15. Poi abbiamo questi, che sono le piastre dei connettori sia destra che sinistra. la piastra di aggancio. Anche questa con la finta brugola all'interno, guardate che bella. Chiedo, e lo sto facendo ad ogni video, scusa per le mie dita, sono rovinate dal lavoro e non ho provato a mettere i guanti, ma non riesco proprio a lavorare con i guanti. E quindi, ecco, voi concentratevi soltanto sui pezzi, ok? Grazie. Eccole qui. Tutto in plastica. Poi abbiamo una serie di viti J. Ci servirà una vite, una è data in più, che io sono già andato ad avvitarmi qua, per crearmi il filetto. Ovviamente non ho usato alcun tipo di lubrificante, mi raccomando, avvitatela a secco. E la domanda che molti si pongono è, Michele, ma che senso ha crearsi il filetto sulla plastica? Ve lo dico subito, vedete? Questa vite terrà questo pezzo qui, il supporto. Se voi non create il filetto e vi trovate ovviamente la resistenza dall'inizio alla fine che avviterete la vite, se non state attenti e avvitate di più, andate troppo in battuta e spezzate la plastica. Invece, se vi create il filetto, come ho fatto io, la vite scorrerà libera e nel momento in cui sentirete resistenza saprete di essere arrivati alla fine e quindi darete ancora un piccolo colpo e basta. Eviterete così sicuramente possibili rotture. Poi all'interno troviamo anche due finte brugole che sono in plastica, attenzione, quindi quando andrete a inserire i perni qui, questi due fori, dovrete fare attenzione perché se avrete fretta e spingete in maniera maldestra, prima che il perno sia perfettamente perpendicolare al foro e sia ovviamente inserito, spezzate il perno. Cosa ho usato io? Un pezzo di via adesivo qua. prendiamo il primo perno, così, e andiamo ad inserirlo. piano. Lo spingiamo dopo. Facciamo la stessa cosa con l'altro. bene. Adesso prendiamo qualcosa, forse anche col dito riesco, vediamo piano piano. Sì, sì. Si entrano perfettamente bene. Ok. E poi li spingiamo giù. Io userò uno stuzzicadenti di legno perché non voglio rovinare la vernice sopra che ha il pezzo di plastica. Ecco qua. Guardate che bello. A questo punto prendiamo questo. Prendiamo uno di questi. Basterà guardare il disegno dietro per non sbagliarsi. Ecco qui. Andiamo a inserirlo, a parte che avete la lettera R destra, però, insomma, se lo mettete davanti, lo vedete subito. Ecco qua. Dovrete inserirlo, guardate, vi faccio uno zoom, finché il pezzo non sarà arrivato come questo. Vi faccio vedere adesso. Aspettate. Ecco, vedete? In realtà sembra che si possa inserire ancora qui. Vedete? Guardate, perché vi dico di fare attenzione. Questo esce, questo un po' meno. Vediamo. ecco, infatti, guardate. Ecco, è perfettamente inserito quando tutti i pezzi escono. Qua possiamo inserirlo ancora. Ma dovete fare attenzione a non romperlo. Quindi contrastate sempre la spinta, ricordatevelo, che è di plastica. vedete? Quando la piastra interna sarà perfettamente a filo imbattuta con questo pezzo qui, sarà correttamente inserito. Vedete? Che tocca dappertutto. E infatti adesso andiamo a vederlo da vicino e guardate quanto escono i pezzi. Prima non andava bene, avete visto? Facciamo la stessa cosa con l'altro. Poi alla fine del montaggio, prima di salutarci, prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 16. Così vediamo il punto della situazione. questo fa fatica ad entrare. Andiamo a vedere perché. Non abbiate mai fretta. Lo dico, lo ripeto, lo ripeterò sempre. Non abbiate mai fretta di montare. Se un pezzo non entra c'è un problema. Controllatelo, è inutile spingere forte. facciamo così una prova al contrario. Contrario non lo possiamo fare perché i buchi non combaciano. io vi voglio far vedere tutti i passaggi perché il problema può capitare anche a voi. io faccio fatica perché ho i tagli sulle dita. Fa veramente male. Altrimenti sarei già riuscito, non riesco a fare forza. Aspettate, metto pausa. Tanto dobbiamo inserire questo pezzo così come abbiamo inserito quest'altro. Ci vediamo dopo. Ok, guardate, io mi sono aiutato con questa. Appoggiandola qui di piatto contrastate ogni punto dove fate pressione. Vedete? Soprattutto qui sulla punta perché deve entrarvi perfettamente bene. Deve aderire da tutte e due le parti. Qui tende a rimanere alto. Ecco perché vi dico usate una cosa, un attrezzo di questo genere, una pinza, quello che volete voi che più vi si addica a questo lavoro. E contrastate forte perché è abbastanza duro da inserire ma è così che deve entrare. Vedete i perni piccoli come escono? In ugual misura da tutte delle parti. Se così non è, il pezzo non è stato inserito correttamente. Poi andiamo a mettere questo. così. Ecco. E avvichiamo la vite. Jay. Inseritelo bene dentro prima di mettere la vite. Non è più calamitato quello lì. ecco. Basta così. E anche questo lo abbiamo fatto. Poi prendo semplicemente questo pezzo. Guardate, qui abbiamo questi due segmenti che escono devono inserirsi in questi due tagli. Così come anche questi due devono inserirsi in questi due tagli. Però prima di fare questo, attenzione, perché io avevo delle sbavature qui che ho ancora. Vedete? Ve ne ho lasciate per farvi vedere. Vanno tolte. Ma dovete fare attenzione a non rovinare il pezzo dalla parte che si vede. Quindi il cutter usatelo se sapete usarlo. Altrimenti usate una limetta, non vi fate male. Se non farete questo lavoro, il pezzo non vi potrà mai andare fino in fondo in battuta. Bene. Facciamo l'ultimo passaggio e abbiamo finito anche questo montaggio. Un po' da una parte e un po' dall'altra. Questa parte qui deve essere perfettamente a filo con questa esterna. Vedete? E qui ovviamente deve invece essere completamente imbattuta sia da una parte che dall'altra. Ecco. Il pezzo è terminato. Adesso metto pausa al video e ci vediamo dopo che prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita 16 e poi ci salutiamo. Seguirà poi l'ultimo video di questo nuovo unboxing ricevuto, anzi nuovo pacco ricevuto, siamo italiani, che è il 17. A dopo ragazzi. Ed eccoci qua. Tutto quello che abbiamo montato abbiamo perché siete anche voi parte del canale. Ecco. Ogni tanto dico uso plurale ma non sbaglio. Ve l'ho già spiegato più volte perché senza di voi il mio canale sarebbe chiuso o forse non avrei neanche deciso di aprirlo. Insomma se non mi aveste visto su Facebook prima e poi successivamente ho deciso di aprirmi il canale. Quindi vi ringrazio. Abbiamo montato tutto questo in sole 16 uscite. Secondo me è veramente tanto. Se consideriamo che abbiamo già questo pezzo che è completo, io trovo sia uno dei pezzi forti di questa moto, l'anodizzazione perfetta degli ammortizzatori Hollings. Guardate che spettacolo. sembrano veri. Addirittura abbiamo l'olio che esce, che hanno messo l'oro. attenzione a non perdere i tappi. Io li ho incollati, ve l'ho consigliato. Erano molto diciamo insicuri all'interno. Non era un innesto che mi dava certezza che lì potessero rimanere per sempre. Quindi attenzione a non perderli. Questa è la piastra inferiore dei due steri anteriori. Il coperchio della testata. Questo è quello che abbiamo montato in questa ultima sessione. gruppo marmitta, collettori, scarico, sonde lambda. Non fate caso se qualcuna è piegata in maniera non corretta perché sono poi da incollare, almeno io ho deciso poi di incollarle, ma lo farò come ho già spiegato alla fine. Quando avrò montato la marmita non dovrò più maneggiarla, così eviterò battendo, una volta messa la colla, che si possano rompere i perni all'interno. Guardate il silenziatore qui. E' la scritta Akrapovic. bellissimo musetto, gli sponsor e qui sono money, soldi. e infine il serbatoio con la prolunga dietro. Il logo Yamaha, bellissimo, è un adesivo plasticato. ecco qui. Bene, adesso vado a prepararmi la copertina per questo nuovo video. Io vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando non mancate perché vado subito a preparare il video dell'uscita numero 17. Ciao ragazzi.